Tu sai che cos'è la raccolta differenziata? Sì, è il modo di differenziare i rifiuti, già nella propria casa, in modo che non arrivino mischiati in discariche e possono essere utilizzati. Certo che so che cos'è la raccolta differenziata, non è altro che la divisione di tutta l'immondizia che abbiamo in casa. Eh niente, la carta, la metto in un sacchetto della carta, la plastica nella plastica, l'organico nell'organico, il vetro nel vetro. Differenziare tutte quante le cose che ci sono in casa, dalla carta alla plastica, alle lattine di vetro, eccetera, eccetera. E il riciclo che cos'è? Il riciclo è praticamente un procedimento per recuperare la roba che può essere ancora utilizzata. Il riciclo è riutilizzare tutto quello che noi riusciamo a separare. È un'industria, quindi è nient'altro che quello che ad un certo punto si potrà via, che viene trasformato in un'industria. E praticamente tutti questi materiali che vengono differenziati dovrebbero poi andare in un posto dove vengono riciclati, rimpastati e rimessi di nuovo sul mercato, insomma.